ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti nuovo punto allora vediamo insieme il punto e ma l'ho fatto vedere su facebook nei giorni scorsi vi è piaciuto molto mi avete chiesto il video è un punto tessuto come vedete molto spesso però anche leggermente traforato e con questa superficie operata lavorata in rilievo eccolo qua un punto molto particolare è però anche molto semplice da fare di questo filato che vedete è un filato particolare è un filato elastico proprio un elastico che ho comprato tempo fa da un negozio che chiudeva ne ho presi non fa non è fatto per l'uncinetto però io l'ho usato perché mi sembra che faccia vedere molto bene il punto è molto definito e quindi lo uso per i campioni ma sono gomitolini così piccolini che è stato sufficiente giusto per fare questo campione però ne ho presi tanti quindi volendo poi vedrò se farci qualcosa anche di finito intanto appunto l'ho usato per questo campione perché rende molto l'idea di questo punto particolare che ha questa superficie con questi nodi queste specie di nodi particolari è un punto che va bene per tantissimi usi ovviamente le classiche copertine ma anche tanti altri progetti senza limiti anche progetti per la casa progetti di accessori tipo borse astucci e cose del genere perché appunto essendo spesso ad esempio anche porta cellulari porta computer porta tablet perché protegge molto bene il lavoro soprattutto se fatto con filati un pochino spessi ovviamente a seconda del tipo di filato se è più elastico morbido oppure più rigido come il cotone la differenza si vede perché ad esempio il cotone va bene anche per tovagliette ad esempio sotto pentola sotto bicchieri eccetera perché appunto è spesso ma il cotone rimane ben definito per la lana va bene anche per scaldacollo sciarpe e di tutto di più anche perché no progetti da indossare quindi sbizzarrite vi perché spesso mi chiedete per cosa potete usare un certo punto in realtà i punti si possono usare più o meno per tutto quindi assolutamente sì alle borse che me le chiedete spesso ma anche per tanti altri usi andiamo a vedere come si fa perché è molto molto semplice partiamo con una catenella multiplo di 7 più 2 io adesso ne faccio 14 più 2 16 2 3 4 5 13 e 14 più 2 15 e 16 ok abbiamo la nostra catenella contiamo 4 punti 1 2 3 e 4 andiamo a puntare nel quarto punto puntiamo tiriamo fuori il filo e lo teniamo così poi carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a puntare nel punto successivo tirando di nuovo fuori il filo abbiamo queste quattro asole e adesso le chiudiamo tutte e quattro insieme poi facciamo una catenella questo primo giro un pochino diverso dagli altri poi invece gli altri saranno tutti uguali quindi adesso abbiamo fatto questo gruppo di quattro asole chiuse tutte insieme abbiamo fatto la catenella ora ripuntiamo nel punto successivo tiriamo fuori il filo carichiamo andiamo nel punto ancora successivo tiriamo di nuovo fuori il filo abbiamo sull'uncinetto le quattro asole chiudiamo tutte insieme facciamo una catenella di nuovo e ripetiamo quindi andiamo avanti così puntando nel primo punto e tirando fuori il filo caricando il filo puntando nel secondo punto tiriamo fuori quattro asole chiudiamo insieme e facciamo la catenella e andiamo avanti così fino a fine giro in questo modo molto molto semplice eccolo qua come si presenta diamo di nuovo ok a fine giro avremo tre le ultime 3 catenelle facciamo di nuovo questa lavorazione nelle ultime penultime 2 chiudiamo facciamo la catenella e poi nell'ultimo punto andiamo a lavorare una mezza maglia alta per chiudere il giro quindi chiudiamo il giro poi con una mezza maglia alta ed ecco qua il primo giro che è leggermente diverso come vi dicevo da quelli successivi poi andiamo a fare i successivi che saranno tutti uguali allora facciamo due catenelle voltiamo e abbiamo questa lavorazione qui dove abbiamo questi fori questi gruppetti di maglie questi fori con in mezzo un setto verticale e poi di nuovo il nostro gruppo di tre asole allora andiamo a puntare prima qui in questo primo foro a cavallo e tiriamo fuori il filo come avevamo fatto nel giro precedente carichiamo il filo adesso andiamo a puntare qui in questo altro foro però da questa parte quindi dalla parte sinistra noi abbiamo questo setto che divide con due fori e andiamo a puntare in questo nel secondo tiriamo fuori il filo abbiamo fatto puntato caricato ripuntato ricarichiamo meno di nuovo le nostre quattro asole come avevamo nel giro precedente le chiudiamo tutte insieme e facciamo una catenella e poi ripetiamo però questa volta il primo punto lo puntiamo nel punto già lavorato quindi ripuntiamo qui andiamo a puntare tiriamo fuori il filo lasciamo la soletta sul sull'uncinetto carichiamo qui abbiamo di nuovo questa cosa io adesso qua la vedo bene perché è elastica ma comunque si vede lasciamo il setto e andiamo a puntare dalla parte sinistra tiriamo fuori ed ecco qua chiudiamo tutto e facciamo di nuovo la nostra catenella e poi ripetiamo andiamo a puntare qui tiriamo fuori il filo lo teniamo sull'uncinetto carichiamo andiamo a puntare da questa parte tiriamo fuori carichiamo che chiudiamo tutte e quattro le asole poi di nuovo catenella andiamo di nuovo a puntare qui sotto tiriamo fuori carichiamo il filo andiamo nel punto successivo nella parte sinistra e tiriamo fuori ed ecco qua che comincia a vedersi il nostro disegno del punto andiamo a terminare e alla fine termineremo di nuovo con una maglia doppia maglia e mezza maglia alta in fondo qui abbiamo il nostro ultimo punto e andiamo a fare una mezza maglia alta ed ecco qua che vediamo che il punto continua adesso tutti i giri successivi saranno fatti esattamente allo stesso modo quindi due catenelle voltiamo andiamo a puntare qui nel primo foro tiriamo fuori il filo carichiamo il filo qui perché abbiamo di nuovo il setto che avevamo prima andiamo a puntare di nuovo a sinistra tiriamo fuori abbiamo le quattro asole carichiamo e chiudiamo tutto quindi ancora ripuntiamo qua tiriamo fuori carichiamo il filo andiamo di nuovo a cercare il nostro setto che qua andiamo a puntare a sinistra di questo setto abbiamo le quattro asole carica non carichiamo il filo chiudiamo le quattro asole catenella e ripetiamo quindi andiamo in questo modo sempre a terminare il nostro giro vedete che qui c'è questo setto io vado sempre a sinistra sentite mio cane che abbaia che adesso poi gli apro che vuol tornare dalla terrazza appena finito il video allora rio continuo a fare il mio punto fino alla fine dove chiuderò di nuovo con una mezza maglia alta catenella carico il filo che faccio la mia mezza maglia alta nell'ultimo punto ed ecco qua che il lavoro continua come vedete questo è il disegno che esce fuori direi che ho detto tutto punto emma molto semplice dato il nome di mia nonna io ne ho due ne avevo due si chiaramente come tutti il nome di una nonna e poi magari darò un altro punto il nome dell'altra nonna ok punto emma molto bello termico e in rilievo ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti